La risposta è arrivata a stretto giro di posta. Non si è fatta attendere alla replica del Presidente di Regione Lombardia, Tiglio Fontana, al suo omonimo Fabrizio Fontana, affetto da distrofia muscolare dalla nascita, che chiedeva meno incombenze burocratiche per i malati gravi. Sono stati attivati gli uffici della Direzione Generale Politiche Sociali e Disabilità per ricevere informazioni sul caso segnalato, scrive l'Ufficio di Segreteria della Presidenza. I tecnici ci hanno comunicato che il contributo di Regione alle persone con disabilità gravissima rientra nel quadro di piano annuale di intervento predisposti in base a precise disposizioni ministeriali che tengono conto delle condizioni di salute complessiva della persona in ottica multidimensionale. Per tale motivo, prosegue la nota, viene annualmente richiesta una certificazione medica di invarianza delle condizioni cliniche, che non è da intendersi come una richiesta di conferma dello stato di disabilità, ma come un aggiornamento del quadro clinico necessario a cogliere modifiche dello stato di salute per le quali attivare, oltre al contributo economico, servizi e interventi di natura sanitaria e sociosanitaria utili per una migliore presa in carico. Non si tratta dunque di un inutile accanimento burocratico, ma di uno strumento necessario per aggiornare il piano assistenziale più rispondente ai bisogni del malato. Il signor Fabrizio è stato comunque già contattato dalla TS competente per gli approfondimenti del caso.